Buonasera, buonasera a tutti. Diamo lettura dei dati del bollettino di oggi. Intanto ringrazio il professore Alberto Villani che è il presidente della Società Italiana di Pediatria che poi ci farà un focus sul coronavirus e i bambini. Sono state rivolte nei giorni scorsi alcune domande e quindi abbiamo chiesto al professore di essere qui con noi oggi per farci un focus specifico su questo tema. Il numero dei guariti di oggi è di 415 che porta il numero dei totali dei guariti a 4.440 persone e di 4.480 invece l'incremento del numero delle persone attualmente positive. Il numero delle persone attualmente positive in Italia è di 33.190. Di queste 14.935 sono in isolamento domiciliare senza sintomi e con sintomi lievi. 2.498 sono in terapia intensiva pari all'8% del totale. Purtroppo oggi registriamo 427 nuovi deceduti. Per quanto riguarda le forze in campo segnaliamo oggi il numero di 5.905 volontari, 1.432 in più rispetto a ieri. Questo è a testimonianza dello sforzo straordinario che sta facendo la nostra società civile, i nostri volontari e le nostre volontarie che voglio ringraziare insieme a tutti coloro i quali sono impegnati, dal personale sanitario degli ospedali al personale delle forze armate, delle forze di polizia, delle diverse amministrazioni che sono coinvolte. Abbiamo anche un totale di 655 di tende pretriage, 12 in più rispetto a ieri sono le tende che vengono installate all'ingresso degli ospedali per evitare che ci possano essere fenomeni di contagio negli ospedali e 122 tende penitenziari. Per quanto riguarda il sistema della CROSS, della centrale remota di soccorso sanitario, oggi sono stati trasferiti 59 pazienti dalla Lombardia, 4 in più rispetto a ieri. Il totale dei pazienti trasferiti è di 22 pazienti positivi al coronavirus e 37 pazienti ordinari. Poi volevo dare un paio di informazioni. La prima è quella relativa ai giovani, ai ragazzi che stanno rientrando dei progetti Erasmus e in questi giorni soprattutto al Fiumicino, per loro sarà consentito lo spostamento sul territorio nazionale, potranno essere presi all'aeroporto da parte di un familiare, abbiamo dato indicazioni di questo tipo e si dovranno recare immediatamente nel luogo di domicilio, di residenza, di abituale dimora per osservare il periodo di isolamento fiduciario. Lo spostamento quindi rientra nel caso dello Stato di necessità. Voglio anche dire che poco fa ho firmato un'ordinanza di protezione civile che consente la dematerializzazione delle ricette mediche con l'attribuzione di un codice per cui i cittadini non dovranno più regarsi dai medici di base per la prescrizione dei farmaci ma avranno un codice che indicheranno in farmacia per poter ritirare i farmaci. Vorrei concludere poi con un appello, da più parti ci giunge segnalazione di abbandono di animali domestici, in particolar modo di cani e questo è una cosa assolutamente deprecabile perché in nessun modo esiste ed è stato dimostrato la possibilità di diffusione del contagio tra gli animali, tra i cani e le persone. Sappiamo che il coronavirus è presente anche nei cani, però non è questa la ragione per cui si debbano abbandonare questi animali. Io mi fermerei qui, darei la parola al professor Villani, prego professore. Buonasera, ringrazio molto per questa opportunità di parlare di bambini, in realtà bambini positivi al coronavirus si contano nell'ordine delle decine, sono circa 300 in tutta Italia, anche per quanto riguarda la casistica italiana viene confermato ciò che internazionalmente già sapevamo, ovvero che non esistono fatalità tra i bambini né casi gravi e questo penso che debba rasserenare moltissimo genitori e nonni e anche nella gestione dei bambini in questo momento così particolare devono sapere che non è un problema pediatrico, fortunatamente. Quindi quando e se un bambino presenta dei sintomi, soprattutto se sono dei sintomi non particolarmente importanti, sentendo sempre il pediatra curante e ricordo sempre che l'Italia è un paese molto fortunato perché dispone di questa figura professionale al servizio dei bambini e delle famiglie, interpellare il pediatra e con lui stabilire il da farsi. Ma il criterio per preoccuparsi resta quello di prima del coronavirus, ossia se un bambino ha dei problemi importanti allora meriterà attenzione e andrà portato in ospedale. Il coronavirus di per sé al momento non rappresenta un problema per i bambini e questo penso che sia importante che venga ribadito proprio per dare serenità ai genitori e ai nonni. Allora diamo spazio alle vostre domande. Permettetemi mentre viene per la domanda di ringraziare la nostra interprete che ci accompagna tutte le sere in questo nostro lavoro. Un applauso. Luca Laviola dell'Agenzia ANSA. Oggi l'Italia supera il numero di vittime della Cina, un paese che ha oltre 20 volte la nostra popolazione e in cui l'epidemia è partita almeno due mesi prima. Vi chiedo se questo la vivete come una sconfitta e se nonostante l'impegno eroico del Servizio Sanitario Nazionale sia frutto di impreparazione, ci siamo fatti cogliere impreparati, siamo stati sfortunati, dipende dall'età della popolazione italiana, come lo spieghereste a chi ci sta ascoltando. E la seconda domanda è invece oggi sono aumentati molti i contagi, siamo oltre 4.000 e se questo è almeno un segno che il picco è vicino. La ringrazio della domanda perché mi consente di ribadire la bontà del sistema sanitario nazionale italiano. In realtà in poche parti del mondo c'è un'accuratezza non solo diagnostica, quindi di definizione delle cause di morte con un sistema che è radicato negli anni e che ci consente quindi di appurare con esattezza la diagnosi. Oltretutto, e questo è ben noto, e quindi c'è un fatto meritorio del nostro sistema sanitario nazionale che ci consente di avere dei dati che poche altre nazioni al mondo possono avere e disporre. E anche in termini di accuratezza diagnostica, nel senso che è stato ribadito più volte che questo è un virus molto molto importante che colpisce in modo particolare le persone anziane e quelle fragili, ma è importante anche appurare le cause di morte. Nel nostro sistema sanitario è prevista una scheda di dimissione ospedaliera in cui vengono elencate le numerose cause di morte e chiaramente in questo periodo epidemico non perdiamo occasione di sincerarci se il paziente era coronavirus positivo o negativo. Quindi, ribaltando un po' il senso della sua domanda, direi che rafforziamo la fiducia nel nostro sistema sanitario nazionale che anche in questa occasione dà prova della sua efficienza. Non era messa in dubbio. No, 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 è solo proprio per rasserenarla su questo tema. E abbiamo ancora di più un caso mondiale. Ma guardi, un caso mondiale anche qui in senso positivo, mi permetterei di dirlo, perché tutti ci stanno imitando. Quindi dopo delle iniziali perplessità, in realtà penso che voi giornalisti avete avuto modo di constatare che tutte le nazioni si stanno orientando per quello che ormai viene definito internazionalmente il modello italiano e anche di questo penso che possiamo essere molto orgogliosi. Aspetto al picco, è vicino? Ma guardi, picco vicino, sicuramente c'è un andamento che grazie a quello che viene fatto dall'Istituto Superiore di Sanità e permettetemi di ringraziare infinitamente tutte le nostre istituzioni, il Ministero della Salute, noi riusciamo a monitorizzare molto bene l'andamento delle positività. E chiaramente abbiamo dei dati che ci consentono sempre di essere aggiornati su quello che avviene. Sono dei dati importanti, li osserviamo con molta attenzione. Per valutare con esattezza il picco abbiamo bisogno di tempo. Quello che possiamo affermare con certezza è che le misure che sono state prese danno sicuramente garanzia di ottenere quello che era il risultato che noi ospicavamo, fermo restando che è molto importante che la popolazione rispetti rigorosamente quelle che sono le indicazioni. Quindi se i cittadini si atterranno a tutto ciò che è stato detto, non uscire di casa se non per dei motivi importanti, rispettare la distanza interpersonale e adottare quelle che sono delle misure che sono state più volte ribadite, del lavaggio delle mani e della cura dell'igiene, io penso che l'Italia potrà superare questa sfida. E ripeto con orgoglio che tutti ci stanno imitando. Buongiorno, Giuliano Bormioli, Agenzia Nova, avrei voluto chiedere di numeri ma lo farò in presenza dell'Istituto Superiore. Intanto vorrei chiedere al Dottor Borrelli quali misure per la sicurezza sanitaria si stanno prendendo all'interno dei centri che ospitano i migranti, sia per i migranti che ci vivono ma anche per il personale sanitario che ci lavora. Lo dico anche alla luce del fatto che in molti centri il sovraffollamento purtroppo è una realtà e quindi viene anche difficile mantenere anche semplicemente le distanze di sicurezza. Beh, allora, sicuramente l'affollamento dei centri per migranti in questo periodo è decisamente meno rispetto ad altri momenti storici del nostro Paese. Il Dipartimento per le Libertà Civile e l'Immigrazione ha avuto sin da subito un atteggiamento di prevenzione, ha emanato una serie di disposizioni, ci sono disposizioni volte a garantire comunque il distanziamento interpersonale e quindi sono state adottate tutta una serie di regole di prudenza e di cautela che sono adottate, proprio ieri ne parlavo con il Capo del Dipartimento che mi diceva che da tempo il Dipartimento ha adottato queste regole. Non sono dunque segnalate emergenze allo Stato, in nessun centro, a quello che risulti a lei o non si segnalano casi di... A me non sono venuti, io non sono venuto a conoscenza di casi ma da quello che ho visto neanche all'opinione pubblica e alla stampa è venuto notizia di questi casi. Buonasera, Simone Santi, agenzia Novecolonne, volevo chiedere invece di quelli che stanno fuori dai centri, i circa 50.000 stimati senza fissa dimora, migranti ma anche italiani, la stampa locale riporta ogni giorno denunce e multe per chi è fuori e per chi non ha casa, lei ha fatto un annuncio alle istituzioni locali a trovare delle soluzioni, volevo sapere se ci sono delle novità e che tipo di soluzioni si stanno prendendo. Allora questa cosa l'abbiamo detta sin dall'inizio, devono essere organizzati dei luoghi per i senza fissa dimora, devono essere organizzati dai comuni e dalle regioni che supporteranno i comuni, so che a Roma si sta affrontando, ne ho parlato con la sindaca Raggi già un paio di giorni fa che mi evidenziava anche questo tema, quindi si sta lavorando con i servizi sociali per trovare dei luoghi dove poter accogliere e ospitare chi ha bisogno di avere anche un periodo di isolamento domiciliare. Abbiamo detto che c'è la possibilità di requisire, ma ancora più semplice è quello di acquisire strutture alberghiere da parte delle realtà locali che poi ovviamente potranno avere il ristoro dei costi sulla gestione dell'emergenza. Va attuato e va pianificato l'assistenza anche di queste persone. Buonasera, scusate, sono Navarra di Ascanews. Ascanews, scusate. Allora, riguardo le dotazioni tecniche, diciamo, oggi è stata una presa di posizione riguardo ai guanti. Se si poteva fare chiarezza nel messaggio, non già che voi dovete fare chiarezza aspetto a un vostro messaggio, ma in generale, perché sembra, insomma, oggi ci sono queste prese di posizione da parte dei medici che dicono che appunto la protezione dei guanti a volte non è risolutiva della diffusione del virus, visto che a volte i guanti possono essere usati più volte nell'arco della settimana, ad esempio, e quindi si fa un errore, nel senso che si fanno di usare guanti sporchi di fatto, pur essendo di basta. Ecco, chiedevo questa cosa. La ringrazio per questa domanda perché permette di essere molto chiari su tutto il tema che riguarda i vari presidi, quindi i guanti senz'altro ma non solo. Credo che tutti abbiamo ben compreso che stiamo vivendo un'emergenza straordinarissima che richiede una straordinaria attenzione. E quindi la preghiera che viene fatta a tutta la popolazione è quella di usare i presidi quando realmente necessari, perché i presidi vanno riservati ai medici e agli infermieri e siete ben a conoscenza di tutte le difficoltà che ci sono nel reperimento. Quindi, uno, riservare questi presidi a chi realmente ne ha prioritario bisogno e due, farne ovviamente un uso intelligente. Riusare i guanti è un non senso. Usare la mascherina quando non serve, né io né il commissario la indossiamo perché stiamo a un metro e mezzo di distanza e non c'è nessun motivo di indossarla. Quindi è molto importante ribadire questo perché gli approvvigionamenti, e vi posso testimoniare personalmente, dello sforzo e l'impegno che il governo, il commissario e tutti stanno facendo per reperire materiale che è difficilissimo a reperire. Quindi un uso intelligente. Chi non ne ha bisogno, nelle occasioni in cui non c'è bisogno, non va usato perché se viene usato viene meno per gli operatori sanitari che invece ne hanno indispensabile bisogno. Marco Melli, agenzia stampa a dire, una domanda per il dottor Borrelli in merito alle dichiarazioni del presidente della Lombardia Fontana che chiede più medici dalle altre regioni meno impegnate. Che cosa risponde e qual è la situazione? Questa è una richiesta che è alla valutazione del governo. Vi posso dire che noi stiamo elaborando delle ipotesi per supportare anche in questo campo la regione Lombardia e nelle prossime ore vedrete che ci saranno degli sviluppi che vi verranno comunicati nel momento in cui saranno definiti. Buonasera, sono Claudia Fugani per Fiscale News. Parliamo di mascherine. Allora, Zaia in Veneto ha fatto stampare da uno stampatore privato qualche decina di migliaia di mascherine e le sta dando con la scritta sopra Veneto nel senso che sono fatte dalla regione Veneto. Volevamo capire se queste mascherine sono reali, nel senso possono essere intese come reali mascherine che possono proteggere e quindi hanno il loro significato e uso reale oppure essendo stampate, essendo fatte da un privato, uno stampatore tra l'altro uno che stampa libri, molto importante ma che non ha una competenza in materia se devono essere considerate non idonee perché invece in questo momento sono distribuite nella regione Veneto. E se è possibile a che punto siamo con le mascherine? Il decreto è in gazzetta da 48 ore, ci sono molti carichi fermi alle dogane perché tutto fermo in questo modo e soprattutto il Veneto? Grazie. Allora, guardi, intanto bisogna distinguere mascherine e mascherine. Le mascherine chirurgiche e quelle che vanno negli ospedali che sono le famose e famigerate FFP2 e FFP3 sono delle mascherine che vengono utilizzate dal personale sanitario. Poi ci sono altri tipi di mascherine che sono quelle che consentono di limitare la diffusione del droplet e quindi sono tutte quelle che non sono un dispositivo di protezione individuale. Esatto, sto spiegando, sto dicendo questo ed è previsto anche dal articolo 16 del decreto legge che è appena varato l'altro giorno, la possibilità di produrre e utilizzare mascherine che limitano la diffusione del droplet ma non possono essere utilizzate dal personale sanitario. Sono utilizzate da tutte le altre persone che vogliono in qualche modo evitare la diffusione del contagio ma in quel caso va sempre rispettata una distanza che è quella che è indicata e delle regole di prudenza che sono state date. E' un qualcosa di più rispetto a non portare nulla. Sicuramente sono utili. Su questo io sono in contatto con il capo dell'agenzia delle dogane. Noi se dovessimo trovare delle mascherine che sono ferme in dogana ovviamente non possono fermarsi le mascherine. Se sono destinate agli ospedali, case di cura, quelle vengono sdoganate immediatamente. Qualora ci fossero delle partite, queste partite di mascherina destinate ad altri fini verranno valutate di volta in volta l'esigenza e qualora sia prioritaria l'esigenza che abbiamo come Paese di destinarla ai nostri sanitari le requisiremmo. Noi abbiamo fatto delle requisizioni di alcune partite di mascherino soprattutto nelle dogane della Lombardia e le abbiamo destinate agli ospedali della Lombardia. Grazie. Buonasera, Giorgio Asadoro a DN Cronos. Allora, torno sul tema dei tamponi. Un paio di giorni fa il professor Rezza ha detto che ci sono alcune regioni che sono molto indietro con i tamponi. La domanda è sul modello della CROSS. C'è possibilità che il Dipartimento di Protezione Civile possa coordinare o in qualche modo dare una mano alle regioni che sono in difficoltà facendole aiutare da regioni che invece magari sono più forti su questo per metterli in condizioni di fare i tamponi che servono sempre secondo le linee dell'OMS naturalmente. Sì, noi abbiamo acquistato per il tramite di CONSIP 390.000 tamponi che sono in distribuzione e quindi tutte le regioni avranno a disposizione i tamponi necessari e qualora dovesse servire ne acquisteremo ancora degli altri. Grazie. Buonasera, volevo fare una domanda riguardo alla carenza di farmaci che è stata denunciata anche da AIFA. Vi risulta che negli ospedali comincino a scarseggiare i farmaci proprio a causa del largo uso che se ne sta facendo e come pensate che si possa rimediare? Guardi, riferimenti precisi su questo non ne abbiamo innegabilmente è una situazione molto complessa ricordiamoci che non esiste solamente l'emergenza Covid ma la popolazione continua a avere i bisogni di sempre segnalazioni particolari in tal senso non ce ne sono quello che le posso però confermare che c'è la massima attenzione tutto ciò che è possibile fare viene fatto con grandissima sensibilità da parte del Governo e di tutte le istituzioni. Certo, il sito dell'AIFA è la testimonianza che c'è attenzione a questo problema e si sta cercando di porre rimedio a tutte le situazioni singolarmente e nel loro complesso. È chiaro che è una situazione che merita la massima attenzione anche per i farmaci vale quello che diciamo per i presidi è opportuno che vengano usati quanto più appropriatamente possibile proprio perché è un periodo particolare quindi c'è una esigenza che deve essere ottemperata e la si può ottemperare al meglio se vengono attuate tutte le linee guida comportamentali anche per quanto riguarda i protocolli di assistenza ai pazienti Covid quello che si deve cercare di fare è attenersi a quelle che sono le disposizioni del CTS e dell'AIFA. Scusi, se mi permetto, si sa bene del C2. L'imperimento è specifico dall'AIFA ma soprattutto siccome c'era via libera per la sperimentazione su almeno 330 pazienti per quanto riguarda l'antiromatoide che in qualche modo allevia l'infiammazione nei polmoni ed è stato allargato anche allo Spallanzani anche dallo Spallanzani è arrivata questa richiesta. In sintesi, se non abbiamo i medicinali per fare la sperimentazione come la iniziamo questa sperimentazione? Tutto qua. Guardi, è senz'altro all'attenzione e quindi si sta provvedendo chiaramente se siamo in una situazione emergenziale, ribadisco, bisogna avere dei tempi che chiaramente sono quelli più brevi possibili per risolvere i problemi. Bene. Prima della fine della conferenza stampa permettetemi però e questa è di parte di fare un ingraziamento sentito a tutti i pediatri, a tutte le infermiere che si dedicano ai bambini quindi un grazie di cuore per quello che stanno facendo. Grazie, grazie professore, ci associamo tutti. Grazie a tutti.